L'Inter è già molto attiva in sede di calciomercato. A gennaio manca ancora un po' ma è ovvio che la dirigenza nerazzurra abbia tutta la voglia di provare a pianificare al meglio il prossimo futuro. Il senso è molto chiaro. A gennaio potrebbe arrivare qualcuno ma qualcun altro potrebbe partire e allo stesso tempo, la prossima estate, sono attese delle novità abbastanza significative rispetto alle mosse che il club nerazzurro pare intenzionato a portare a termine. Calciatori come Lautaro Martinet dovranno essere blindati e qualche rinforzo, dall'attacco alla difesa, bisognerà portarlo a casa. In questo senso, le novità che abbiamo raccolto nella nostra raffica, sono abbastanza chiare e importanti. E raccontano molto bene lo stato delle cose. Tra le altre, ci sono news interessanti su un nome che Marotta adesso avrebbe messo in cima alla propria lista. E allora, iniziamo subito scorrendo la raffica e iniziando dalla prima. La prima notizia del giorno riguardante L Inter ed il calciomercato è su Samaric. Stanno tornando a circolare delle voci che vorrebbero i nerazzurri intenzionati a puntare su di lui. Di nuovo, noi siamo qui per dirvi che dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto, le possibilità sono praticamente pari a zero. L'agente di Lazar Samaric torna anche su quanto accaduto in estate con l'Inter. Ecco le parole di Karsten Rickard a Sport Italia. Prima di tutto, L Europeo rappresenterà una pietra miliare per lui e la sua famiglia, soprattutto perché è ospitato dalla Germania, dove è nato e cresciuto. Un grande torneo è sempre stato il suo sogno. Ecco perché ha scelto di giocare per la Serbia. Anche se non ha ancora guadagnato così tanti minuti con la nazionale, si sta già adattando alla squadra, agli schemi ed allo stile di gioco, quindi si spera che ne otterrà di più la prossima estate. Beppe Marotta, infatti, pur mantenendo stima per il professionista, è intenzionato a puntare su altri profili per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Dunque, proseguiamo con la seconda notizia di mercato della nostra raffica. Seconda notizia della nostra raffica, riguarda Hassan Uedraogo. Hassan Uedraogo, è uno dei giovani talenti più ricercati di Europa. Centrocampista centrale, classe 2006, tedesco ma di origini del Burkina Faso, nonostante la giovanissima età si sta mettendo in luce con la maglia dello Schalke 04, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Tra questi c'è anche L'Inter, sempre attenta quando si tratta di talenti pronti ad esplodere, e disposta ad accelerare i tempi per mettere le mani sul giocatore già a gennaio. I nerazzurri, tuttavia, dovranno vedersela con due ostacoli non indifferenti, la volontà del ragazzo e la guerrita concorrenza. Secondo quanto riporta Skysport Deutschland, Uedraogo preferirebbe concludere la stagione allo Schalke 04, evitando un trasferimento a stagione in corso, e puntando a raggiungere i suoi obiettivi con il club, in cui è cresciuto. Un'idea totalmente diversa rispetto a quella che hanno in viale della liberazione, ma anche in casa Milan e Juventus, entrambe interessate al giovane centrocampista. Perché Giallo è un colpo da fare anche a gennaio. Marotta e Ausilio sono fiduciosi, perché si sono già portati avanti e non sono lontani dall'arrivare all'accordo. Devono aspettare per ragioni burocratiche gennaio, poi si potrà anche formalizzare. Di sicuro non è ancora fatta. Anche perché Tiago Giallo come free agent fa gola a tanti. Il difensore portoghese ex Milan che non rinnoverà il contratto con il club francese, piace anche a squadre di Premier e di Liga, ma pure alla Juve e al Napoli. In Francia pensano che possa farsi sotto anche il PSG. Per questo potrebbe essere anche un colpo da fare in anticipo, cioè a gennaio, alle condizioni del Lille, per anticipare la concorrenza. Pare che Marotta abbia già deciso di offrire a Tiago Giallo un contratto da 2,5 milioni circa. Il portoghese verrà ingaggiato come l'erede di Darmian. Ciò tuttavia non significa che l'Inter abbia deciso di non voler continuare con l'ex Parma. Il contratto di Darmian, in scadenza a giugno 2024, verrà automaticamente prolungato di con un altro anno di accordo fino al 2025, e non è da escludere un rinnovo formale. Non solo la priorità Giallo. Buongiorno, è tra i primi della lista. Superprova per Alessandro Buongiorno, nella sfida che è Valsa o l'Italia il pass per Euro 2024. L'Inter è tra le squadre che monitora i progressi del difensore del Torino, come confermato anche da Calciomercato. Com. Il suo nome si lega al suo compagno di reparto in nazionale, Francesco Acerbi. Il Nerazzurro è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2025, quando avrà 37 anni. Per la prossima stagione, i dirigenti Nerazzurri sono in trattativa col 23enne portoghese Thiago Gialò, ex Milan, in scadenza con il Lille. Ma in prospettiva futura, continuano a seguire altri profili italiani e Buongiorno, è tra i primi della lista. Cairo lo ha blindato con un nuovo contratto fino a giugno 2028, ma l'Inter non lo perde di vista, si legge sul sito. La penultima notizia della nostra raffica di calciomercato la dedichiamo ad un nome che sarebbe vicinissimo all'Inter. Lo abbiamo detto tante volte e le indiscrezioni che arrivano ce lo confermano. Taremi sembra davvero prossimo a vestire la maglia dell'Inter. Non sappiamo se a gennaio o se in estate. Di sicuro, però, la volontà comune è quella di fare un matrimonio tra le due parti che a quanto abbiamo raccolto noi si vogliono unire. Taremi vuole l'Inter, l'Inter vuole Taremi. E per quanto questa possa sembrare solo una piccola voce di calciomercato, noi vi assicuriamo che le cose stanno così. E ora, chiudiamo la nostra raffica con l'ultima notizia di mercato sull'Inter. L'ultima notizia della nostra raffica la teniamo per parlarvi di Scalvini. Un giovane gioiello italiano in cima alla lista dell'Inter per presente e futuro. I dirigenti nerazzurri ragionano attentamente in ottica mercato, ecco quanto evidenziato da calciomercato. Com su una pista per la difesa di Simone Inzaghi. Giorgio Scalvini, è un nome che nelle idee di Beppe Marotta e Piero Ausilio, rappresenta il profilo ideale per il futuro. Giovane, già più che rodato in Serie A e di ottima prospettiva. Una trattativa complessa, date le pretese dell'Atalanta che, forte di un contratto fino al 2027, difficilmente si accontenterà di una cifra lontana dai 40 cinquantesimi di milione per lasciar partire il proprio gioiello. Alla valutazione importante si aggiunge poi la concorrenza di club europei importanti come il Manchester United, ma la dirigenza nerazzurra non rinuncerà ad affondare il colpo.